Sulla regione ristagna aria umida dei bassi strati. Sabato pomeriggio giungerà un fronte sulla regione, domenica sera un altro più debole e lunedì un terzo più deciso. Per sabato prevediamo inizialmente cielo nuvoloso sulla regione con ancora qualche schiarita sulla Carnia e sulle zone occidentali. Nel pomeriggio qualche debole pioggia sparsa su bassa pionure costa. Verso sera peggioramento, quindi con cielo coperto ovunque, precipitazioni moderate sulla fascia occidentale, più abbondanti su quella orientale e forse anche intense sulle prealpi giulie e sul Canin. Nevicate direi abbondanti in quota in montagna, sopra gli 800-1000 metri sulle Alpi, oltre i 1200-1500 metri sulla fascia prealpina. Domenica mattina, dopo il passaggio del fronte, avremo qualche schiarita sulla fascia occidentale della regione. Poi il cielo si farà nuovamente coperto e verso sera sarà possibile qualche pioggia sparsa, in genere debole o al più moderata, più frequente forse sulla costa e sulla fascia orientale, con qualche debole nevicata oltre i 1000 metri circa. Per lunedì peggioramento con piogge intense su tutta la regione. Dall'Osservatore Meteorologico dell'ARPA, Livo Stefanuto.